Benvenuti amici, io sono Pippo, oggi siamo su Waking Up, gioco in cui dobbiamo andare a svegliare il tizio che sta dormendo Perché? Deve andare a lavoro, però lui continua a dormire, quindi ci penso io a svegliarlo, infine lo svegliamo Quindi cominciamo a tirargli addosso tutto quello che troviamo in stanza Abbiamo un tempo limite nella quale dobbiamo riuscire a svegliarlo, nel caso in cui non ci riusciamo è livello fallito Quindi iniziamo, tap object to grab, quindi prendo un cuscino e glielo lancio sulla faccia Oh svegliati brutto essere che hai 30 secondi per svegliarti Cuscino ma guarda lì come rimbalza, oh sei a terra, sei svegliato, oh grande così You win, next, si addormenta pure sulla scrivania, ma che sei? Aspetta che gli lancio la coppa Te la lancio in bocca proprio, svegliati brutto faccia di capa, ti prendo il computer pure te la lancio in bocca Ti rompo i denti, io direi che sei svegliato Il cubo di rubik proprio si è svegliato, io volevo tirarti ancora cose, non ti svegliare così presto però Next, livello 3, ma dai mentre che pitturi pure Allora ti prendo il quadro, il quadro posso prenderlo o no Il secchio di vernice, glielo lancio sui capelli Svegliati brutta faccia di capra Ti lancio pure i sacchi di cemento, la scala La scala non posso, you win, io voglio, ti svegli troppo presto però Andiamo al prossimo, livello 4, oh si è addormentato in vasca il piccoletto Prendo che cosa? Che cosa prendiamo qua? L'asciugamano no, la carta igienica Gli la lancio dove? In faccia ovviamente, svegliati Che stai per annegare Svegli, no la carta igienica è troppo morbida Che prendo? Il cesto? Niente, questo che è? Non lo prende Cos'è? Il cesto del sapone Glielo lancio sul collo Tac Niente, prendo solo carta igienica Per niente, questo livello Non mi piace questo livello Gli voglio lanciare cose pesanti Cos'è? Lo spazzolone sulla schiena È ancora vivo Si è svegliato Tac, si è svegliato Così, si riprende Next Allora, pur in bagno dormi tu Ma posso lanciargli solo carta igienica? Allora, start Spazzolone In bocca Svegliati Brutto Faccia di capra Ti devi svegliare Oh, solo carta igienica Non c'è prio con la carta igienica Oh, qui adesso abbiamo un bel po' di cosucce Da lanciargli in palestra Prendi la palla e non la prende Il peso Il peso sì Il peso in faccia Paff E muorici Muorici con 80 kg sulla schiena No, che prendo? Sul sedere Oh Un altro peso qua In bocca No, è troppo Si sveglia troppo rapidamente Mentre fa il tapirulan Che cos'è? Un altro peso in faccia Tac Sulla testa E via che svolazza lì sopra Sul tapirulan Che prendo poi? La palla Perché non prendo? Oh, la palla l'ho presa In bocca Tac Che prendo poi? Solo un'altra palla Un'altra palla Oh, la stecca La stecca Prendo la stecca Gli infilzo la bocca Gli infilzo come uno spiedino Tac Niente Non gli faccio niente Con le palle faccio più danno Oh, si è svegliato A posto You win Livello 8 Ti lancio un pedone Cos'è? Una torre In bocca Tac Niente Una tazza di vernice Poi un altro peso Un altro peso Il tapirola Ti lancio Lo skateboard You win Niente Next Allora Ti sei addormentato Sull'altalena Adesso io prendo la pizza Che tu hai lasciato Brutto E se te la lancio in bocca Oh, dondola Dondola L'ha addormentato Dondola Livello 10 Allora Prendo lo skateboard E glielo lancio Proprio sulla pancia Non l'ho preso Good Però mi dice good Allora l'ho preso La zucca Non ti abbracciare da solo Perché tanto sei un essere inutile Next Livello 11 Il palloncino Gli lancio il palloncino Non faccio danno col palloncino Gli lancio Oh, il frigo Non l'ho preso Ma come non l'ho preso La pizza E lo dog Mangiati lo dog Brutto Facile di capra Palla Palla in bocca Next Livello 12 Sulle pallette Ti addormenti Come sei Che gli lancio Sempre la zucca Gli lanciavo sempre le stesse cose Però Prendigli l'ombrellone L'ombrellone No Glielo conficchiamo proprio sul sedere No Qua c'è una palla No La zucca Sempre la zucca Svegliati Prendiamo tutto Prendo la zucca In bocca Oh, fa Super 124 Next Allora Cos'è Devi prendere il treno Svegliati Ti lancio la valigia sulla schiena Svegliati Dove te ne devi andare Svegliati Che perdi il treno Next Sempre i stessi soggetti Scatola Palla Regalo di Natale Next Oh, io lo lascerei qui Nel dubbio Io non faccio niente Start Che cosa succederà mai? Il treno arriva? Il treno non arriva Peccato Io l'avrei lasciato qui Avrei voluto vedere Cosa sarebbe successo You win Dove sei? In spiagge Dov'è? Dov'è? Che è successo? Reset Dov'è? Non lo vedo Start Non lo vedo Perché? Che fine ha fatto Il bel addormentato nel bosco Qua? Non c'è più E niente Quel livello era buggato L'ho schippato guardando video Livello 18 Oh, adesso ti sveglio Perché mi devo vendicare Da prima Ti devo rompere proprio la schiena Così impara a nasconderti E non farti vedere Nella visuale brutto essere You win L'ho 19 Oh, io ti lascerei annegare Così io ti lancio le cose E tu devi annegare Vediamo Nero, non si sveglia Manco si annega Ma che brutto È annegato È morto Non lo prendo lì È morto? È morto annegato Lì come lo prendo? È buggato sto gioco Però lo prendo Lo prendo Faccio 20 punti Ok, lo prendo E va benissimo così allora Lo prendo Gli cade la valigia proprio sulla schiena Non lo prendo Lo prendo Non lo prendo 10 punti Prendi È scaduto il timer Svegliati Non annega Niente Lui continua a dormire anche sott'acqua Next Livello 20 Sta precipitando E ti faccio cadere nel vuoto Cadi dalla tua casa È morto Non si sveglia Non si sveglia Neanche se precipita Però si è svegliato Livello 21 Entra nel cammino Che sei Babbo Natale Entra nel cammino Entra E no vabbè È gioco demenzialissimo Vai O ti infili O esci Vedi un po' tu che devi fare Prendiamo le mele Sì le ho lanciate le mele Svegliati Mangiati una mela Se mangi una mela al giorno Ti togli il medico di torno E così dormirai per sempre Vai Adesso ti lancio La carriola Prendi la carriola La carriola Vai Svegliati Mancavano due secondi Un secondo You win Però ho vinto Ok Livello 22 È tornato a dormire Ti devi svegliare Che devi andare a lavorare Brutto essere La coppa La coppa in faccia Coppa in faccia Sedia in faccia No sei svegliato Ok Next Ah Siamo ritornati Praticamente Dove eravamo prima Tutta la routine Del caso Quindi lui Si sveglia Poi si mette al computer Dorme anche al computer E poi dipinge la parete Continua quello che aveva iniziato ieri Però si addormente sempre e comunque E io ti lancio sempre e comunque le cose Perché tu ti devi svegliare Brutto essere I lavori li devi comprenare La scala non riesco a prenderla Però lui si sveglia Poi si fa il bagno E si addormente Nuovamente Fa sempre la stessa routine Ogni giorno E io che ogni giorno Lancio la carta igienica All'altra carta igienica Però ci può stare Come cosa Allora Prendi qualcosa di più pesante Non si sveglia con la carta igienica Lanciagli un mobiletto Lanciagli qualcosa Niente Lui Ritorniamo di nuovo a quel livello Voglio dire se è buggato Effettivamente Però di qua che ci arriviamo Si fa capodanno 8 6 Svegliati Brutto essere Livellamente 6 Devi svegliarti Devi svegliarti Che voglio arrivare al livello Diciamo quant'era 16 15 17 24 Allora Ti devi svegliare Con i pesi in faccia Ti devi svegliare Per forza Come fanno a svegliarti Con 50 kg in bocca Come fai Come fai Tapirulan Peso Peso sulla testa Svegliati Che diventi più intelligente Con i pesi lanciati in faccia Vai Vai che questo non lo prende Questo non lo prende In testa Ma com'è che non muore Skateboard O You win Come sempre ti lancio Il fogliettino in faccia No non è un fogliettino Qualcosa di più pesi I pesi Prendi i pesi che si sveglia prima Prendi i pesi Fammi vedere il peso Ok next Pizza O dog Va a tenere la ruota panoramica Vatti a fare un giletto Così ti svegli Next Livello 31 addirittura Palla Prendi la palla Prendi la palla in faccia Skateboard In faccia Palla Number 2 In faccia La pizza Mangiati la pizza Non la lasciare Che poi ti aggrediscono Le formiche Altra pizza Altro dog Altro caffè Svegliati col caffè Svegliati col caffè Svegliati con la palla Svegliati con la zucca Svegliati con Ti prendi a calci in bocca Poi vediamo Palline Palla number 1 Pizza Hot dog Zucca Cappellino E' arrivata la ruotino Next Avanti Che ti devi svegliare Io voglio capire Se quel livello E' proprio buggato Oppure mi si è buggato Proprio il livello 17 Baligia Regalino Regalino E' andato via Non andare via Perché tanto ci devi morire Io ti lascerei sui binari Solo che il treno Non cammina Perché sto treno E' tuo Secondo me Quindi lo piloti tu Se non ti svegli Il treno non parte nemmeno Quindi alzati E cammina Brutto S Ti lancio i regalini in faccia Next Oh niente E' buggato il livello Ragazzi Non c'è niente da fare Non si vede Vabbè Gioco molto divertente Quindi se il video vi è piaciuto Dicete un bel like Iscrivetevi al canale Se siete iscritti Attivate la campanella E poi c'è tutto A prossimo video Oggi torniamo su High Day Dopo un bel po' di tempo Quasi un anno Dall'ultima volta Che ho portato Questo gioco Per vedere un po' La mia fattoria A che punto è Cioè scusate Guardate i miei animali Poveretti In che condizioni sono No